Cosa sta succedendo? Dove mi trovo? Dimmi, Parker. Hai mai indossato la tuta di Venom? Cos'è questa roba? Hai mai indossato la tuta? Una volta. Solo per poche ore. Sembra che la tuta sia indissolubilmente legata a te. È incredibile che tu sia sopravvissuto all'incontro con Eddie Baird. Brock, le tue nanoparticelle corporee vogliono disperatamente ricongiungersi alla tuta. Affascinante. Vediamo se riusciamo ad agevolarne il tragitto. Nel caso questo dovesse ucciderti, voglio che tu sappia che tuo padre è stato un vero genio precursore. Status? Sì. Sì. Eddie? Eddie, cosa stai facendo? Ho raggiunto un assoluto e totale controllo. Adesso ho un conto da saldare. L'ufficio di Trask. Mio padre! Dimmi di mio padre! Tutto quello che vorresti sapere sui tuoi genitori è qui dentro. Ce l'ho da quando ho scoperto che... Ancora tu? Tranquillo. Il mio contratto con Trask è scaduto dieci minuti fa. Se lo stai inseguendo, non preoccuparti. Non sa guidare un elicottero. Ma tu? Nessun rancore. Gli affari sono affari. Trask! Trask!